Com'è andata? Queste sono ossa, questi sono profili di tombe, vase e lame per chilometri, chilometri di schiaccia. In mezzo alla plastica, qualsiasi altro genere di rifiuto. Maniglie di vasi, questa è la nostra costa, la costa ovest di Taro, delle rovine di Taro, guardate qua, c'è di un po' di tutto. Sto facendo una passeggiata. Sto facendo un po' di tutti i colori. Sto facendo un po' di tutti i colori. Guardate come diventa la plastica, queste sono microparticelle, siamo nella spiaggia di Taro, nel Sines, in Sardegna. Ecco, così si trasforma la plastica, no? Chissà quante centinaia, magari di anni, per arrivare a questo. E' proprio questo il pericolo che finisce nelle nostre tavole, no? Dentro la pancia dei nostri pesci, dei gabbiani, dei gormorani. Guardate la spiaggia. Guardate quante micro, e non solo. Infatti c'è, la spiaggia ne è completamente piena. Guardate qua che roba. Guardate qua che roba. Guardate qua. Guardate qua. Completamente. Grazie. Guardate qua. Guardate qua, occida l'ironia, dalle piccole particelle alle grandi particelle. Queste sono le grandi particelle Ecco cosa tutto arriva dal mare dietro ogni angolo c'è sempre qualcosa che riguarda la plastica